Un grande saggio! Hai usato i tuoi poteri per farlo! Cosa? Pensavo che tu... come... Perché, sai, pensavo che mi potresti insegnare alcune abilità magiche! Ascoltà, Nanetto! Quelle cose non sono facili da insegnare! Bene, allora... E un trucchetto facile? Sarebbe grandioso! Il mio nuovo insegnante, Monkey King! Il re delle scimmie! Tu vinci sempre! Sei anche mortale, quindi ci puoi proteggere! Ma la cosa migliore che sai fare è... Lanciarti dalle nuvole! E puoi creare cloni dei tuoi peni soffiati su! Ehi, su! Attenzione! Perché non è successo niente? Quasi dimenticavo! C'è ancora una cosa! Hai il tuo bastone magico? Ed è vero che puoi farlo diventare grandissimo! Piccolo come uno stuzzicadenti! Beh, allora... È vero? Oh, ora ricordo! Lo nascondi nell'orecchio! Fammelo vedere! È lì dentro? Mi piacerebbe prenderlo! Voglio chiudere il becco! Non smetti mai di parlare, è vero? Non riesco a pensare! La mia testa esplode! Fa silenzio, per favore, ok? Ok... Ma è... Niente più domande, ok? Neanche una! Ok... Ma quando posso iniziare con le nuove domande? Che sport! Ehi, ma come hai fatto? Ti fa male la mano? Mi insegneresti come si fa? Mi ha raffreddato! Contami delle tue grandi battaglie! Beh, c'era un bambino che non mi voleva lasciare in pace! Sembra terribile! Oh, lo era! Non smetteva mai di parlare! Come hai avuto i tuoi poteri? Ho mangiato un po' di banane magiche! Ho mangiato un po' di banane magiche!